Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini. Ciao Stefania! Ciao a tutti, buona domenica! E ciao Ovetto! E oggi Dino sta ancora a mezzo guscio, non si è svegliato. Mi ha detto che è molto stanco. Vedevo delle zambette, facciamo un po' di soletico. Chi è? Chi è? Aiuto! Ehi! Ciao! Aiutami! Ciao Dino! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Spettinati tutto, spettinato dalla notte. Ma siamo sul Cantare in Libertà? Certo! Eh sì, certo! Oh che figura! Stavo dormendo! Eh sì, abbiamo visto che stavi dormendo e ti abbiamo svegliato. Come mai? Ero molto stanco oggi. Esci da capito, va bene. Ecco qui. Ma adesso sei pronto? Sei abbastanza sveglio? Eh sì! Va bene, va bene. Ascolta, allora, come ogni domenica, hai preparato una canzone per i bambini? Sì, certo! Wow che bello! Come si chiama? Allora si chiama Belinda, vuoi ballare con me? Belinda vuoi ballare con me? Ma no, ma che cazzo? Ma si deve ballare, dobbiamo ballare anche noi? Eh sì, se vuoi sì! Ok! Segui le mie parole! Ok! Ok! Sono pronto! Ok! parker generally! Ciao, 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 Belinda! ciao 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 belinda! Ciao, ciao ciao belinda! Voi ballar con me Vatti forte le tue mani Vatti forte le tue mani Vatti forte le tue mani Voi ballar con me Vatti forte i tuoi chiedini Vatti forte i tuoi chiedini Vatti forte i tuoi chiedini Voi ballar con me Vanda tanti bei bracetti Vanda tanti bei bracetti Vanda tanti bei bracetti vuoi mandare con me? Che bravo Dino! Che bravo, che bravo, molto 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 bella questa canzone, si può ballare, si può fare anche un cerchio, si possono inventare anche altre mosse, tipo, che ne so, alzo le spalle, alzo le sovracciglia, i capelli, tante altre mosse, ecco. In base alla fantasia di un bambino. Certo! Ah che bello, quindi allenatevi a aggiungere altre parole, a fare altri movimenti. Ok, grazie Dino! Puoi tornare a dormire se vuoi? Risponde prego! Prego! Esatto, bravo! Ok, allora, bambini, noi ci vediamo la prossima domenica, ringraziamo Stefania che ci porta sempre tutti i suoi amichetti e ci vediamo! Domenica prossima! Ciao! Ciao! Ciao!